Mister, una vittoria decisiva per questo passaggio del turno, la squadra ha risposto bene, nonostante sia Coppa Italia, abbiamo visto una squadra affietata anche oggi, come è il suo carattere? Sì, siamo partiti, abbiamo avuto subito l'occasione del gol, poi dopo ci siamo messi al passo loro e lì mi sono incazzato perché la nostra squadra non può giocare trattorellando a uno all'ora, probabilmente loro pensavano di fare un solo boccone, invece nel calcio non è così, bisogna sempre mettere in campo la mentalità giusta e cercare di chiudere la prima partita perché poi qualche errore si può concedere e poi dopo possiamo complicarci la vita, però sono contento perché i ragazzi rispondono anche chi gioca poco, oggi ha segnato anche un altro, un 2000, i ragazzi sono bravissimi perché seguono alla lettera tutto quello che io gli dico e questo è fondamentale. Intanto contro il Paiano che squadra vedremo? Quale sarà più o meno l'idea di gioco contro questa squadra che è allenata da un ottimo mister, che è mister Turco e che comunque verrà da Agropoli per dare freddo da torcere a questa squadra? Sì, io l'ho vista, sono andato domenica a vederla, ho visto solo il primo tempo e la squadra mi ha un po' impressionato perché hanno dei giocatori molto fisici e qualche giocatore rapido e comunque abbiamo già studiato tutto. È normale che poi adesso ci godiamo questa partita, i ragazzi è giusto che si godano questa serata e poi da domani pomeriggio alla ripresa pensiamo a domenica. Sicuramente domenica affronteremo una squadra forte dove noi dobbiamo mettere in campo tutta la nostra personalità perché questo è un campionato che si vince con la personalità e poi le qualità che abbiamo nei singoli e quelle che poi dovrebbero fare la differenza. Qual è la squadra che fa più paura al mister De Cesare? No, ma le squadre fanno paura a tutti, il problema non sono gli altri, il problema è la mia squadra che dovrebbe sempre seguire alla lettera di quella allenatore che fa, però è normale, ci sono partite che giochi male e vinci e ci sono partite che fai delle grandi prestazioni e ti può venire meno il risultato. Il calcio è imprevedibile sotto questo punto di vista, io sono abituato sempre a essere una persona umile, a lavorare perché come vedete voi io sono una persona che amo il campo, è giusto che si eloggiano i ragazzi in questo momento e non De Cesare perché se noi facciamo bene è ringraziamento solo e esclusivamente ai ragazzi, naturalmente anche alla società. A parte che volevo aprire una parentesi, quando riguarda la squalifica, volevo chiedere alla società e alla gente perché le mie parole sono state un po' fraintese, però stiamo lavorando per il ricorso e adesso cercheremo di mettere tutto a posto. Ma come ho detto già la settimana scorsa, la squalifica di De Cesare non deve essere un alibi, la squadra va in campo e gioca, con De Cesare in panchino non, loro sanno cosa devono fare. Grazie mister, in bocca al lupo. Direttore Grillo, che ne pensa di questa partita? Beh sicuramente è sempre una partita infrasettimanale, una partita che mette minutaggio nelle gambe, è una partita che andava affrontata come l'abbiamo affrontata e per poter fare comunque minutaggio come dicevo prima è un risultato che comunque ci sta perché abbiamo veramente espresso un buon calcio. Quanta priorità c'è per questa Coppa Italia? Beh sicuramente la società ha chiesto alla squadra, al mister che è uno degli obiettivi previstati della stagione, quindi per noi è importante e bisogna affrontarla come fosse la domenica. Ci teniamo stretti i nostri giocatori sperando che mettano forza nelle gambe, nell'allenamento e combattare questo gruppo perché è veramente un gruppo di ragazzi che si stanno mettendo a disposizione e che seguono l'allenatore. Questa è la mia priorità perché da responsabile è giusto che lo dico e vi faccio i complimenti, poi da qui a quello che succederà a dicembre dipende da loro purtroppo, io non posso più giocare quindi è normale che siamo nelle loro mani, sono fiducioso e ho una grande fiducia in questi ragazzi. Grazie